Bologna Inside, L'Ora Nera, il colpevole è, non lo dico per rispetto allo scrittore, Matteo Bordonotti, un giallista, scrittore, chi sei? Eh sì, sono un giallista, uno scrittore, uno sceneggiatore, ho fatto diverse cose, ma più di tutto oggi sono quello che presenta questo nuovo noir a cui tengo moltissimo, perché devo tenerlo, facciamo così, è promozionale quindi. Quindi, legge un sacco tu ho notato vedendo anche gli altri video, bene, mi fa piacere, e questo L'Ora Nera è un noir a cui tengo moltissimo, sono tornato al noir dopo il primo romanzo che uscì con Mondadori nel 2005 che si intitolava Questo è il mio sangue, L'ho fatto con una storia taglientissima, l'ho fatto grazie a una serie di chiacchierate anche fatte insieme a un caro amico che è Paolo Bolognesi, il presidente dell'associazione Fra le vittime della strage del 2 agosto 1980, abbiamo parlato insieme dell'Italia, di quello che stava succedendo già qualche anno fa, è nato in germoglio durante queste chiacchierate, L'Ora Nera, e poi è cresciuto negli anni, nel tempo, e quest'estate mi sono detto che era il momento di farlo uscire, perché è estremamente attuale, anche a detta della direttora di questa collana, che è un collega, Paolo Roversi, mi hanno detto fra l'altro che io non dovrei chiamare gli altri scrittori colleghi, perché siamo tutti artisti, la dovremmo tirare di più, allora questo libro che il direttore della collana ha apprezzato molto, il direttore della collana, Paolo Roversi, che è un mio emulo, va bene così, cerca di imitarmi, tutti quelli che scrivono cercano di imitarmi, così me la tiro e vendo di più. Ma tu hai iniziato da bambino, da giovane a scrivere? Io ho iniziato da bambino, grazie a Loriano Macchiavelli, che mi ha regalato uno strillo di copertina per questo libro e che mi ha spinto nel baratro, lui si sente estremamente in colpa per questo, ma tuttora è il mio papà letterario e gli sto attaccato molto volentieri, perché da Loriano si impara, credo, la lezione fondamentale del narratore, che è l'umiltà. Se non ti riesci a mettere nei panni di tutto, non puoi raccontare tutto, è sempre stato un mio desiderio, quello di poter cogliere dal mucchio il respiro del tempo. Loriano l'ha sempre fatto, io lo ammiro per questo. Romanzi come Strage, ad esempio, sono un lampante saggio di come si possa raccontare intrattenendo la storia d'Italia e lo spirito dell'Italia. Nell'ora nera ho cercato di fare una cosa simile, ma vent'anni dopo. Ho raccontato la storia di un'Italia a un passo da un golpe militare, guidato da fantomatici personaggi sciasciani, per dirla in termini alti, quindi da un grande manovratore che sembrerebbe tra le righe essere un ex presidente della Repubblica e un onorevole che attualmente parrebbe essere al governo, che si incontrano a Roma e stanno organizzando qualcosa. Un qualcosa a cui però mette i bastoni fra le ruote senza volere l'ispettore Murer, che è un poliziotto depresso, che ha visto morire un collega durante una manifestazione di piazza, perché le piazze sono tornate violente, sono in rivolta, perché, guarda caso, anche nel mio romanzo, ed era stato scritto prima dei forconi, il disagio sociale ha creato un attrito molto forte fra la popolazione e il governo. Quindi l'ispettore Murer si ritrova a dover affrontare, senza saperlo, se non fino a un momento in cui dovrà per forza affrontare la cosa guardandola in faccia, una cospirazione nazionale che un po' ricorda certe spy story degli anni Ottanta. Ho voluto citare un pochino i grandi romanzi dello spionaggio internazionale, ma scrivere un libro fortemente italiano, fortemente bolognese. Un appello ai giovani che vorrebbero scrivere ma non hanno il coraggio di pubblicare? No, no, ma non scrivete. Il mio appello è lasciate perdere, non si diventa ricchi. La gente ti guarda male perché comunque crede che tu lo faccia perché vuoi vantarti, o peggio ancora, e poi te la tiri perché dici che sei un artista, o peggio ancora quando ti chiedono che lavoro fai e tu gli rispondi lo scrittore, dopo ti chiedono di nuovo sì, ma che lavoro fai? Quindi è una vita di umiliazioni, lasciate perdere, fate fotografie, adesso vanno di moda i fotografi. Posso dire una cosa, spezzo una lancia a proposito a favore della fotografia di copertina, che è di Tommaso Di Donato, che invece non è un photographer qualunque, è un bravissimo fotografo bolognese, e sono molto contento perché questa foto è stata selezionata fra l'altro da una ragazza che fa la giornalista fotografica, scrive per fotografare, si chiama Elisa Contessotto, è molto brava e quindi penso che abbiano fatto un ottimo lavoro.